2.500 uova di cioccolato, a latte e fondente, coloratissime e soprattutto solidali. I fondi raccolti con la vendita infatti verranno destinati alle scuole, agli asili e alle associazioni del territorio che hanno aderito all'iniziativa. L'idea prende il via a Gallarate otto anni fa grazie alla creatività e all'intraprendenza di Emanuele Mulazzani, coordinatore di una schiera di referenti di comitati genitori e associazioni scolastiche. L'iniziativa viene promossa dai comitati e dall'associazione dei genitori delle scuole cittadine e anche altre realtà col tempo hanno iniziato questa modalità per raccogliere dei fondi per perseguire i propri scopi. Cresce di anno in anno dunque questa bella iniziativa proposta tutti gli anni a Pasqua con le uova e a Natale con i panettoni. Eravamo partiti in una scuola sola nell'asilo Collodi all'epoca proponendo le uova di Pasqua per raccogliere fondi per i progetti e dedicare poi ai bambini. Col tempo con il passaparole creando una rete siamo riusciti a estendere da una scuola e siamo arrivati a oltre 20, 22, 23. Più altre associazioni ad esempio come gli Scout o anche la parrocchia di Cedrate che ha fatto anche lei le uova di Pasqua per contribuire ai lavori dell'istituzione della chiesa ad esempio. Ogni scuola, ogni comitato poi ci tiene ad avere su il proprio simbolo perché è comunque un motivo di vanto per essere parte di quella scuola che ha partecipato a questa iniziativa e i bambini poi sono contenti di uscire da scuola con l'uovo di Pasqua della loro scuola. Quest'anno abbiamo fatto un piccolo stock di 100 uova per il gruppo Facebook Gallarate e tutto il ricavato di queste 100 uova andrà a sostegno e in beneficenza alla associazione gallaratese Hauser che insomma è una associazione molto attiva sul territorio e ci teniamo a riuscire a dare via tutte le uova. Quello basta rivolgersi agli amministratori del gruppo Facebook che personalmente consegneranno le uova ai cittadini che le richiederanno. Tanti progetti che hanno preso il via grazie all'iniziativa negli scorsi anni come corsi di madrelingua inglese e laboratori per gli studenti. I fondi che vengono raccolti poi con la vendita delle uova la maggior parte all'interno delle scuole servono poi per andare a contribuire a progetti che le scuole stesse non potrebbero sostenere che vengono finanziati appunto dai comitati genitori e dall'associazione genitori come ad esempio può essere la madrelingua inglese per i bambini della prima alimentare o i progetti di arte e terapia in alcune scuole o come proprio l'acquisto di giochi per i bambini se non che anche del materiale proprio didattico che serve appunto per arricchire l'offerta formativa dei ragazzi durante l'anno. Le uova vengono realizzate da un laboratorio artigianale di Mantova. Il cioccolato arriva da un'azienda produttrice di cioccolati perché negli anni siamo riusciti a contattare varie aziende c'è questa azienda che produce le uova di Pasqua e produce questo stock per noi capendo anche il significato dove vanno i fondi ci fa sempre un prezzo particolare quest'anno la mia amica Laura è stata veramente preziosa per trovare un fornitore veramente competitivo e l'uovo sinceramente sempre apprezzato assaggiato perché piace veramente a tutti. Grazie per la visione!